Musica Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale. C'è la politica con le elezioni comunali. Alla fine ha deciso per tutti il presidente Francesco Roberti, il governatore. Il nome dell'avvocato Aldo De Benedittis, quello che la coalizione di centrodestra ha formulato al tavolo romano quale candidato a sindaco di Campobasso. La decisione al termine di una lunga riunione che si è conclusa con la sola riserva della Lega. Il commissario Marone, dopo l'incontro in giunta, si è recato a Roma nel tardo pomeriggio per un confronto con i vertici nazionali. Ci dice tutto in questo servizio Pasquale Di Bello. Alla fine a capo del tavolo ci si è messo lui, il capotavola del centrodestra, Francesco Roberti, presidente della regione Molise. E' stato lui, visto lo stallo della coalizione, a fare personalmente il nome dell'avvocato Aldo De Benedittis, quale candidato alla carica di sindaco per il comune capoluogo. L'indicazione è stata accolta con freddezza dalla Lega, tant'è vero che il commissario regionale Michele Marone si è recato di volata a Roma per definire con i vertici nazionali la posizione da assumere. La Lega, visto il passo indietro di Fratelli d'Italia, chiedeva che fosse un uomo indicato dal carroccio a correre per il comune di Campobasso e in tal senso da giorni aveva indicato il nome dell'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti, che però come pallante aveva fatto venire meno la sua disponibilità, comprensibili i passi indietro di Cefaratti e Pallante davanti ai minuetti che per un mese hanno tenuto in ostaggio un tavolo finito in un vicolo cieco. C'è stata quindi la svolta alla quale hanno aderito tutte le altre forze della coalizione. Anche per il centrodestra, quindi, l'orientamento è verso la società civile. Aldo De Benedittis, già assessore al bilancio dell'allora sindaco Gino Di Bartolomeo, non è da considerarsi in quota a nessuna parte politica. A lui spetta una campagna elettorale in rincorsa rispetto ai due competitori attualmente in campo, Pino Ruta per la coalizione civica e Maria Luisa Forte per lo schieramento progressista, che da tempo sono partiti con incontri e iniziative che animano ogni giorno la città. Il vantaggio che un centrodestra con troppi capimastro della politica ha assegnato agli avversari adesso potrà essere recuperato con una campagna elettorale fatta pancia a terra, voto per voto, porta per porta. Ci sono da amministrare a Campobasso circa 110 milioni di euro nella prossima consigliatura e questo rappresenta per chiunque un abbrivio per la prossima competizione regionale. Mancano quattro anni, è vero, ma le battaglie politiche sono onde lunghe che hanno una grande gestazione. Da Campobasso può iniziare quindi la riscossa del centrosinistra, come dallo stesso capoluogo invece può arrivare una conferma per il centrodestra. Salvo colpi di scena, che a questo punto sarebbero l'equivalente di colpi alla tempia, e il centrodestra a questo punto dovrebbe aver chiuso la partita. E in attesa dell'ufficialità sul nome del candidato sindaco di Campobasso per il centrodestra pesano in questione anche le parole di Salvatore Colagiovanni, l'esponente della coalizione. Nel pomeriggio ha convocato la stampa e ha lanciato un vero e proprio ultimatum. Si decide, il candidato sindaco entro poche ore ha detto o noi corriamo da soli. Il servizio è di Enzo Luongo. Entro ieri. Risponde così Salvatore Colagiovanni a chi gli chiede entro quanto tempo il centrodestra deve decidere. Il candidato alla carica di sindaco di Campobasso, il consigliere che fu il più votato alle comunali di cinque anni fa, con quasi 800 preferenze, ha convocato la stampa per strigliare la coalizione. Non c'è più tempo, ha detto, non possiamo più aspettare. Siamo al 17 e secondo me stiamo leggermente in ritardo per essere ottimista. Ma io credo che il candidato sindaco deve essere la prima scelta che bisogna fare in coalizione perché attorno al candidato sindaco si fanno o non si fanno le liste, si costruisce o non si costruisce il candidato. Quindi se la scelta non comincia a essere il vero problema io ho difficoltà che poi potremmo essere... Ci sono i tempi tecnici che potrebbero essere una coalizione che può realmente sfidare il centrosnistra e altri competiti per poterla vincere. Colagiovanni dice anche che il suo nome è sul tavolo e che non c'è nessun accordo sotto banco, precisa inoltre di non aver messo veti su altri nomi, ma che se la scelta non sarà fatta entro poche ore, lui e la sua squadra, fatta di tre o forse anche quattro liste, saranno costretti a partire da soli. Ma io spero che questa conferenza stampa servi a poter punzecchiare un po' gli amici del centrodestra che sono gli alleati. E poi tra qualche giorno si presentano le liste, quindi non è che possiamo aspettare altro. Bisogna raccogliere le firme su ogni singola lista e bisogna raccogliere i candidati per raccogliere le firme. Quindi il centrodestra deve cominciare a riflettere realmente per come cominciare a uscirne fuori da questo impasse che secondo me comincia a essere veramente, non ridicolo, ma quasi. La Giovanni infine invita la coalizione a non ripetere gli errori di cinque anni fa. Sono mesi che ragioniamo, sono giorni che si ragiona sul candidato. Sembrano più candidati che consiglieri, anzi è così. Ci sono più candidati sindici in giro che liste da dover formare. E secondo me è una preoccupazione perché voglio ricordare che cinque anni fa noi abbiamo avuto lo stesso problema e purtroppo io ringrazio chi si è sacrificato cinque anni fa ma abbiamo perso in maniera davvero, davvero, ingiustificabile. La candidata sindaca della coalizione progressista Maria Luisa Forte domani sera alle 18 nell'incubatore sociale di via Monsignor Bologna a Campobasso terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio le misure di contrasto alla povertà. Seguirà un confronto pubblico con la presenza di Oriano Giovannelli del Comitato Esecutivo di Alleanza contro la Povertà in Italia di cui fanno parte varie associazioni che da oltre dieci anni lavorano per contribuire all'elaborazione e alla realizzazione di politiche adeguate di contrasto alla povertà. Nell'ambito degli incontri organizzati nella sua sede elettorale il candidato sindaco di Campobasso per il cantiere civico Pino Ruta si è confrontato con le associazioni per parlare di sport e infrastrutture sportive e illustrare le sue idee proposte per la città. Sono diverse le associazioni sportive a Campobasso, lo sport non è solo agonismo e competizione, benessere e socialità ha una funzione educativa importante e importanti sono le infrastrutture in cui praticarlo. Temi che l'avvocato Pino Ruta, il candidato sindaco di Campobasso per il cantiere civico, ha affrontato nella sua sede elettorale. Ha spiegato le sue idee proposte per la città appunto su sport e infrastrutture. La nostra idea sulla città è anche quella di creare delle aree di verde attrezzato in un raggio di 300 metri da ogni abitazione in conformità a quelle che sono le nuove coordinate dei piani, i cosiddetti piani urban health licenziati a livello europeo che permettono quindi anche la costituzione di queste aree e la possibilità di accesso e di fruibilità da parte dell'utenza a prescindere dalle condizioni economiche perché anche l'accesso allo sport ormai è diventato una questione molto selettiva e anche elittaria. Le palestre private sono purtroppo costose e di conseguenza anche l'attività sportiva che è un'attività non soltanto ludica ma anche preventiva in termini medici diventa sempre meno accessibile e più difficilmente proibile dalle parti e dalle fasce più deboli. Quindi da questo punto di vista l'idea di città sarebbe quella di creare queste strutture all'aperto visto che il campo basso ha aree disponibili ma purtroppo abbandonate o dismesse per consentire attività sportiva a tutti e quindi per consentire un'attività non soltanto di svago ma anche di prevenzione. All'incontro hanno partecipato anche l'ex calciatore del campo basso degli anni d'oro, Marco Maestripieri oggi tecnico federale docente Unimol e rappresentanti delle associazioni sportive. Riteniamo condivisibile un percorso che vada nella direzione di assegnare e affidare la gestione delle strutture pubbliche sportive in particolar modo degli enti locali e comuni di campo basso in favore di associazioni sportive. Penso che una società moderna come oggi si cerca abbia bisogno sicuramente dello sport per far sì che le nuove generazioni crescano in un modo diciamo genuino e preciso. Il commissario ad acta per la sanità Marco Bonamico e il sub commissario Ulisse Di Giacomo hanno approvato il modello organizzativo regionale dei servizi di telemedicina. Il documento è stato integrato come richiesto dai ministeri di economia e salute in sostituzione del precedente decreto commissariale del 2 ottobre 2023. Tra gli obiettivi dei servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio quello di rafforzare l'ambito territoriale di assistenza contribuendo ad assicurare equità nell'accesso alle cure e migliorare la qualità della vita e l'inclusione dei pazienti. La piattaforma di telemedicina sarà unica a livello regionale connessa con i sistemi informativi regionali e contemplerà la gestione e l'offerta attraverso la connessione con il centro servizi e i diversi erogatori dei servizi di telemedicina secondo le specifiche nazionali. Con l'approvazione del bilancio 2024 al via le assunzioni in regione, a dirlo è l'assessore a ramo Gianluca Cefaratti. Con l'audizione nelle prossime ore delle parti sociali inizia l'iter che porterà entro il 30 aprile all'approvazione dei documenti contabili. Insieme al bilancio anche la legge di stabilità 2024 e il documento di economia e finanza. Pasquale Di Bello. Strada in discesa per il bilancio regionale 2024. Al via con le audizioni in prima commissione consigliare i lavori che si concluderanno entro la fine del mese secondo le previsioni dell'assessore a ramo Gianluca Cefaratti. Un bilancio che finalmente dà via alla fase di programmazione e che punta a rafforzare gli interventi per gli enti locali. Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati. Entro il 30 aprile spero davvero che il Consiglio possa approvare gli atti. Da domani inizia la sessione di bilancio in Consiglio regionale con le audizioni di tutto il sistema molise. C'è un bilancio nuovo che in qualche maniera dà qualche respiro in più anche al mondo dell'associazionismo, al mondo della cooperazione, agli enti locali. C'è un bilancio su cui trovano spazio anche i fondi del POR FSE, FESR, per cui iniziamo quella fase di programmazione che in tanti attendevamo, in primis noi, che il territorio ci richiedeva e quindi siamo pronti davvero a calare sul campo realmente le risorse economiche necessarie a questo territorio. A pesare sul bilancio in approvazione sono ancora una volta i debiti fuori bilancio, ben 10 i milioni di euro ai quali si è già dovuto mettere mano. All'anno scorso avevamo un debito da recuperare pari a quasi 42 milioni di euro per il 2023. Quest'anno dobbiamo raggiungere l'obiettivo target dei 33 milioni di euro da recuperare, quindi sono risorse che sottraiamo chiaramente al bilancio 2024. Oltre a queste risorse purtroppo c'è da dire che c'è una piaga a cui stiamo ponendo pian piano rimedio che è quello dei debiti fuori bilancio. Le dico che dal nostro insediamento a luglio alle delibere fatte in giunta nella giornata di ieri abbiamo pagato oltre 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio. La novità più importante del documento contabile è la previsione di risorse destinate alle assunzioni in regione. Questo vuol dire concorsi a breve e ripresa piena di un'attività rallentata dalla carenza di personale. Abbiamo previsto in bilancio le risorse per il 2024, 2025 e 2026 per l'assunzione dei funzionari e dirigenti. Ne abbiamo assoluto bisogno di assumere nuove figure che in qualche maniera lavorano nei servizi. Tutti i servizi hanno delle scoperture incredibili, a cominciare dal servizio bilancio ma per passare tutti i servizi. Abbiamo le somme stanziate in bilancio, abbiamo la necessità che i revisori dei conti in qualche maniera diano il proprio assenso alle assunzioni a tempo indeterminato. Non ci sono problemi per le assunzioni a tempo determinato. Possiamo farle senza l'assenso dei revisori dei conti ma per quelli a tempo indeterminato abbiamo la necessità che i revisori dei conti asseverino i nostri conti. 6 milioni di euro per le borse di studio è la novità annunciata dal rettore Luca Brunese nella conferenza stampa per illustrare i dati e le novità che riguardano l'Ateneo Molisano. Immatricolazione in crescita, un nuovo corso di studi e giudizio molto positivo espresso dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Il servizio. La notizia il rettore Luca Brunese l'ha data alla fine della conferenza stampa riguarda le borse di studio. Il presidente della regione ci ha appena comunicato a una variazione di fondi aggiuntivi al bilancio con 6 milioni per risolvere definitivamente il problema delle borse. Sapete che in tutta Italia e anche naturalmente in Molise c'è molta agitazione. Devo dire che il presidente, lo dicevo già prima, si è rivelato molto attento. Brunese ha illustrato dati e annunciato novità che riguardano l'Unimol, una realtà cresciuta con un piano strategico che punta a renderla più internazionale, ha detto, rafforzando la territorialità in cui gli studenti possano concretizzare le proprie aspirazioni. Un Ateneo, quello molisano, per il quale è arrivata un'importante certificazione di qualità da parte dell'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca per il percorso fatto negli ultimi anni. Il giudizio è molto positivo. Il fatto che il giudizio dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario sia stato così positivo in realtà dice che noi abbiamo fatto un percorso, un'ispezione di 5 giorni, fatta con due mesi a monte di studio prima di venire, in cui ci hanno valutato veramente in ogni singolo aspetto. Potrei dire dove non c'è speranza che qualche criticità non venga fuori, perché vengono fuori tutte le criticità, naturalmente per noi è motivo di grande soddisfazione. Negli ultimi otto anni abbiamo un aumento del 25% delle immatricolazioni, guardato complessivo, sono numeri importanti per i nostri territori. Presentato lo slogan La tua storia, la nostra università, con un simpatico cartone, le torri colorate sono i dipartimenti dove gli studenti possono costruire la propria storia e dove sono contenti di venire. Manteniamo e rafforziamo i nuovi corsi di studio attivati, ha sottolineato Brunese, e che riguardano sanità, informatica, ingegneria, sport, ma ci sono anche delle novità. Il corso nuovo di quest'anno è la magistrale di fisioterapia, lo dico nel modo più semplice possibile, che è il completamento del corso triennale che noi già abbiamo. Dobbiamo fare necessariamente una valutazione sulle lauree, i corsi di lauree delle professioni sanitari, perché come sapete da quest'anno non c'è più l'offerta formativa ex-cattolica per capirci, quindi in pratica noi dobbiamo naturalmente aumentare i nostri numeri anche in funzione di questo aspetto. Poi l'altra novità delle scuole di specializzazione è che io da quest'anno so, stiamo chiudendo in questi giorni la proposta di ortopedia, non abbiamo motivo di ritenere che essendo stata fatta come le altre scuole degli altri anni si è accettata anche questa proposta. Diverse le iniziative come la carta per gli studenti, da loro realizzata che sarà presentata a breve pochi Atenei l'anno, potenziamento e innovazione dei servizi museali e bibliotecari, creazioni all'ingresso dell'Ateneo a Campobasso di un punto ristoro da 100 posti da attivare per l'inizio del prossimo anno accademico, già a ottobre. Manteniamo il piano trasporti, ha aggiunto Brunese con le solite richieste, la rotatoria in via Scardocchia e collegamenti con la facoltà di medicina incontrata a Tappino nel capoluogo e dai Serni alla sede di Pesche. Promesse solo quelle, secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani la visita in Molise del sottosegretario Morelli è stato l'ennesimo spot a meno di due mesi dalle elezioni europee e amministrative. Il dato faraonico del miliardo di euro annunciato per il Molise, ha aggiunto Primiani, non è una novità ma fondi già stanziati nel programma 2021-2025. È evidente invece che il governo Meloni non prevede alcuna quattro corsie nel programma per gli investimenti. Lo stesso sottosegretario, ha sottolineato Primiani, riguardo al raddoppio della Bifernina ha parlato solo di un lontano auspicio. Vuol dire, ha concluso il consigliere 5 Stelle, che l'intervento tanto atteso dai molisani non è in cantiere. Una serie di limitazioni per ridurre al minimo l'emissione in atmosfera delle cosiddette polveri sottili. La Giunta regionale ha rivisto il progetto Priamo adeguandolo alle indicazioni del TAR davanti al quale era stato impugnato dalle mamme della salute di Venafro. Giovanni Di Tota. Un anno fa era stato il TAR, accogliendo il ricorso presentato dalle mamme della salute di Venafro, a indicare la strada da seguire per i correttivi al cosiddetto Priamo, il piano regionale integrato per la qualità dell'aria in Molise. I correttivi sono arrivati nel corso di un incontro a Palazzo Vitale, durante il quale sono state illustrate le limitazioni introdotte per cercare di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera delle polveri sottili che da anni inquinano la piana. Abbiamo riadeguato il piano regionale così da andare verso quella che sia una tutela dell'ambiente, una tutela delle persone, degli abitanti, ma che ci faccia dare la giusta attenzione alle aziende presenti sul territorio, ma che rivede e cerca di rivedere un po' le abitudini quotidiane di tutti i cittadini e il rispetto per l'ambiente che ci circonda. Si tratta in particolare di introdurre limitazioni al traffico delle auto e dei mezzi pesanti, che per la verità esistono già nell'area di Venafro, di ridurre i combustibili a biomassa per i generatori di calore e per gli impianti termici ad uso civile industriale e per le altre attività produttive, compresa l'agricoltura, e di limitare una serie di emissioni in atmosfera di gas di scarico prodotti da cantieri e da attività industriali. Il piano integrato per la qualità dell'aria riguarda comunque l'intero territorio regionale e come sottolineato nel corso della presentazione, l'obiettivo principale resta quello di preservare l'ambiente e tutelare la salute dei cittadini. Il Molise non rientra più tra i territori che possono soffrire del super bonus 110% per la riqualificazione delle aree colpite dal sisma, occasione persa secondo il Consorzio delle imprese edili che lancia un appello al Presidente Roberti affinché intervenga e riporti la nostra regione tra quelle beneficiari e delle agevolazioni. Barbara Fino Oltre 160 opere di ricostruzione e di riqualificazione post-sisma nelle aree comprese nel cosiddetto cratere sismico del Molise rischiano di non essere portate a termine, migliaia se si considera l'intero settore edilizio della regione. Questo a causa del nuovo decreto legge del 29 marzo 2024 che esclude il territorio molisano dalle agevolazioni del super bonus 110% che, come noto, rappresenta un fattore determinante delle decisioni di investimento per gli interventi nelle zone colpite da eventi calamitosi. Ed è per questo che Massimo Sterpetti, Presidente del Consorzio Rigen, la rete di imprese edili, fa un appello al Presidente della regione Roberti affinché intervenga per riportare il Molise nelle aree beneficiari dell'agevolazione. Come ben sappiamo, il 29 marzo, col decreto legge numero 39, sono state concesse queste agevolazioni fiscali alle regioni del cratere dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria ed è stata esclusa l'area del cratere del Molise in provincia di Campobasso che raggruppa circa 20 comuni. Tenga presente che questi provvedimenti valgono per case che hanno, per unità immobiliare, che hanno il certificato Aedes, il che significa inagibili. Allora, la sollecitazione che faceva E.ON anche a nome nostro e che noi condividiamo e ci facciamo portatori presso il Consiglio regionale, nella fattispecie al Presidente Roberti, e che in questa fase, prima che il decreto diventi legge, faccia tutti gli sforzi possibili per far reinserire il Molise tra le regioni che possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Una grave perdita del settore, secondo il Presidente del Consorzio, ma anche l'occasione svanita di riqualificare le zone molisane colpite dagli eventi sismici. Questo significa per noi una perdita di decine e decine di milioni per tutte le imprese della regione, per tutti gli operatori afferenti a questo comparto, quindi i tecnici, i fornitori, gli impiantisti, i serramentisti. Morti sul luogo di lavoro, un fenomeno in crescita che sembra purtroppo non arrestarsi. Ne abbiamo parlato con Tecla Boccardo, segretaria regionale Will Molise, che ha analizzato le sfumature dei problemi lavorativi, dal precariato alla disoccupazione fino alle morti bianche. Sentiamo Dalila Catenaro. Morti sul lavoro, un dramma che colpisce ogni giorno la nostra nazione. Un fenomeno purtroppo in crescita, che sembra inarrestabile. Il Molise, nonostante sia una piccola regione, ha un alto tasso di denunce per infortuni sul lavoro, così come in percentuale ha un alto tasso anche di morti sul lavoro, come fa sapere Tecla Boccardo, segretaria Will Molise. Bisogna migliorare la sicurezza e i controlli per tutelare il diritto alla vita delle persone, che è sempre prioritario. Morti sul lavoro, che purtroppo sono in crescita, è un fenomeno che non si frena. È un fenomeno che accade soprattutto laddove ci sono pochi controlli, laddove c'è soprattutto carenza di lavori subappalti e soprattutto dove c'è tanto precariato. Pensiamo al Molise, che è una piccola regione, ma ha un alto tasso di denunce per infortuni sul lavoro, così come in percentuale, comunque il nostro tasso di morti sul lavoro è alto rispetto a una regione dove non c'è neanche lavoro. Questo perché? Perché fondamentalmente qui non c'è il lavoro e quindi si è sotto il ricatto del lavoro, perché quando si perde il lavoro fuori dalle fabbriche si trova il deserto e quindi molto spesso si accettano tante condizioni che invece normalmente non dovrebbero essere accettate. Tante volte noi diciamo di migliorare la sicurezza, così come chiediamo anche di migliorare i controlli per la sicurezza, però tante volte c'è la difficoltà proprio anche dei lavoratori stessi, anche insomma dentro le aziende, di rivendicare questo tipo di tutela, la tutela alla vita delle persone, perché la vita delle persone dobbiamo ricordare che è prioritaria rispetto al profitto. Il 20 aprile a Roma sarà indetto uno sciopero sia da parte della UIL che dalla CGL, sempre per valorizzare il diritto alla salute. Saremo lì presenti con centinaia di lavoratori anche dal Molise. Il diritto alla salute io sfido chiunque in Molise a dare una risposta ad una domanda. Se soddisfatto del servizio pubblico regionale io credo che la maggior parte delle persone, non di quelli che si possono permettere di pagare le visite mediche o di pagare gli interventi, ma delle persone che invece non se lo possono permettere perché non hanno i soldi a sufficienza, che devono andare nel servizio pubblico, io farei questa domanda. Se sono soddisfatti? La maggior parte non è soddisfatto perché i LEA in questa regione non vengono garantiti e soprattutto perché continuiamo ad accantonare debito e questo porta poi di conseguenza ulteriori tagli. Siamo ancora in piano di rientro. Ecco, a Roma faremo un focus anche per le singole regioni. Infatti ci saranno degli stand dedicati alle singole regioni e alle criticità nella sanità per le singole regioni. Noi porteremo questi temi a livello nazionale perché speriamo di poterli risolvere. Un uomo di 35 anni è stato arrestato colto in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato sorpreso mentre passeggiava per il centro abitato del suo comune di residenza nonostante fosse agli arresti domiciliari dall'inizio del mese di aprile per altra causa. È stato arrestato dai carabinieri e nella successiva udienza dinanzi l'autorità giudiziaria l'arresto è stato convalidato ed è stato ricondotto nella sua abitazione appunto agli arresti domiciliari. A Campobasso i cittadini che abbiano compiuto 16 anni potranno votare il miglior progetto per il bilancio partecipativo. Sentiamo di cosa si tratta. Il servizio è ancora di Giovanni Di Tota. Una decina di progetti per un importo messo a bando di 35 mila euro. A Palazzo San Giorgio è stato illustrato questa mattina il risultato del concorso indetto dal comune aperto alle associazioni del cosiddetto bilancio partecipativo. In sostanza progetti che al termine di una votazione aperta verranno realizzati. Quegli ammessi spaziano nei campi più svariati dalla sicurezza del primo soccorso alle emergenze e alla sicurezza domestica proposto da Unilab. L'associazione Tratturando ha invece ideato un percorso culturale per la frazione di Santo Stefano ma ci sono anche proposte sul Cavaliere di Sambiase, sui misteri, sul cibo, sui giochi e lo sport. Le idee sono state illustrate alla stampa dalla sindaca Paola Felice e dall'assessore al bilancio Pina Panichella. Un esperimento innovativo per la città che apre le casse comunali alle proposte dei cittadini. Ma la novità è costituita dal fatto che a decidere il progetto migliore non sarà una commissione come avviene di solito ma una votazione popolare che sarà aperta dal prossimo 2 maggio e si concluderà il 17 dello stesso mese. Potranno partecipare al voto tutti i residenti di Campobasso che abbiano compiuto 16 anni. Le modalità del voto sono illustrate sul sito online del comune. Al risultato ottenuto il progetto sarà ammesso a finanziamento e realizzato dai proponenti. Una giornata di approfondimento per gli studenti del liceo Galanti di Campobasso che hanno partecipato agli esercizi di memoria in occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924. All'appuntamento che si è svolto alla ex GIL di Campobasso sono intervenuti tra gli altri il docente di storia e relazioni internazionali dell'Unimo al Matteo Luigi Napolitano e la giornalista Carmen Sepede, autrice dell'opera teatrale Il mio nome è Tempesta, il delitto Matteotti, vincitrice del premio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso della mattinata gli attori Diego e Domenico Florio hanno recitato alcuni brani dell'opera, moderato l'incontro Gianluca Tramontano, docente del Galanti. Si prevede un'estate diversa in sette comuni del Basso Molise con il Festival delle Radici, l'iniziativa finanziata dal Ministero degli Esteri che vuole favorire il ritorno di tanti concittadini che vivono all'estero per riabbracciare arte e tradizioni del posto. Ce ne parla Andrea Nasillo. C'è attesa per il Festival delle Radici Molisane tra arte, culture e tradizioni. Un progetto finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione rientra nel piano di ripresa e resilienza e il fine è quello di realizzare attività culturali in favore dei discendenti italiani nel mondo. Saranno estate super, i sette comuni coinvolti, Guardia Alfiera, Acquaviva Collecroce, Civita Campomarano, Montecilfone, Montemitro, Palate e Tavenna saranno impegnati nella promozione delle comunità locali sul tema dell'emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un'offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici costituendo una rete di enti. Ci troviamo qui a Guardia Alfiera insieme con gli altri sindaci nelle terre del sacramento di Iovine. Naturalmente a noi ci fa molto piacere presentare questo calendario qui a Guardia Alfiera con loro perché ogni comunità delle nostre vicinanze ha bisogno di essere riscoperto dai nostri concittadini che sono all'estero. Questo secondo me è un valore aggiunto straordinario, cioè aver lavorato insieme e aver creato un qualcosa che però non si ferma qui oggi ma dovrà continuare. Quindi da questo festival dovranno nascere nuove iniziative, nuovi progetti da proporre in futuro e da farlo con delle partnership del territorio. Avete visto la Molisea Uau, l'Italia, tutti i valori aggiunti che sono convinti in futuro aiuteranno alla crescita del nostro territorio e ad avere un futuro migliore che ci apre al resto del mondo. Noi sindaci siamo entusiasti di questo finanziamento ottenuto perché farà sì che potremmo migliorare e rilacciare ancora di più quelli che sono i nostri contatti con i nostri connazionali all'estero, figli di emigrati magari 50-60 anni fa e questa è veramente una buona occasione. È stata inaugurata l'Auditorium Unità d'Italia a Isernia la collettiva di arte contemporanea dal titolo Peri Barone, visione oltre confine patrocinata dal Comune e dalla Proloco Cittadina, la mostra è un'occasione unica per ammirare le opere di Michele Peri e Nino Barone, che pur con linguaggi espressivi differenti condividono una profonda ricerca interiore e una forte attenzione al territorio molisano. L'esposizione proseguirà fino al prossimo 26 aprile. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.